Il campionato Quarantaquattresimo La fiammata Praticamente da fermo Fiorito Lascia partire La bombarda Traversa Che tiro incredibile Ma si resta Sullo 0 a 0 Ottavo del secondo tempo Senes Dalla distanza Bel tentativo Ma il risultato Non cambia Diciannovesimo Angolo Pieve La palla Arriva Ferri Bella girata Fuori di poco Ventunesimo La svolta Pastorino Dalla tre quarti Disegna un cross Meraviglioso Per il neo entrato Trabona Che incorna E spedisce la palla Nell'incrocio È 1 a 0 Ventitresimo Calcio d'angolo L'arbitro vede O per meglio dire Sente qualcosa che non va Cartellino rosso Per Avellino E Pieve in dieci uomini Piove sul bagnato Ventiquattresimo Attenzione Tutti in piedi Per la prodezza Palla asciutto Che si coordina Al volo È un tiro pazzesco È solo la traversa Gli nega la gioia del gol Rivediamo nelle immagini L'incredibile prodezza Trentanovesimo Lancio Per Cagnetta Che si invola È velocissimo Arriva tu per tu Con Firpo Lo salta di precisione La mette in rete Grande azione Di Capitan Cagnetta Che riporta Sull'1 a 1 Il risultato A poche giornate Dalla fine Un pareggio Che accontenta tutti Ma in realtà Non accontenta nessuno Lecce Grazie a tutti.